Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, anche questa sera approfondimento sulla politica regionale che è già in un gran bel fermento a sei mesi dalle prossime elezioni per il rinnovo della guida della regione oppure per la conferma di Marco Marsilio. Ormai i candidati e le coalizioni si vanno delineando e noi approfondiamo i vari punti di vista, soprattutto approfittiamo di questa fase anche per fare un bilancio della legislatura regionale che si conclude ospitando i presidenti dei gruppi consigliari. Oggi salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito Mauro Febbo che è il capogruppo di Forza Italia. Grazie a te e buonasera ai telespettatori. Allora Febbo, entriamo subito nel vivo della situazione politica che si è già infiammata a sei mesi dall'elezione, anche perché le coalizioni sono già abbastanza chiare, questo è un fatto abbastanza inedito. C'è una riconferma alla quale mira il centrodestra, sarebbe per la prima volta da quando esiste la regione Abruzzo per Marco Marsilio, ma c'è anche una coalizione di centrosinistra allargata ai Cinque Stelle e ad altre forze che si va costruendo. Si aspettava innanzitutto, poi parleremo ovviamente di voi, questa candidatura di Luciano D'Amico come sintesi dell'opposizione regionale? Io credo di averla anticipata già da qualche mese, visto lo spessore e la personalità del dottor D'Amico, credo che era l'unico che poteva essere candidato in grado di mettere insieme una coalizione, di affrontare una campagna elettorale. Per loro e per lui molto difficile, molto dura, mi sembra che il percorso sia abbastanza impraticabile, questo lo dico non perché voglia vantare, ma abbiamo sondaggi oramai datati e ripetuti, ma soprattutto ci sono una serie di candidature che certificano la debolezza in questo momento di quella coalizione del centrosinistra allargato, che proprio perché è allargato crea molte difficoltà, soprattutto all'area moderata, all'area di centro. Nel centrodestra il tema di questi ultimi giorni di campagna elettorale, iniziata ripeto da poco, ancora senza liste, è proprio quello delle liste, perché c'è questo ultimatum della Lega a Marsilio, ma poi anche sostanzialmente un po' a tutta la coalizione rispetto alle cosiddette candidature dei transfughi, che sarebbero, secondo appunto il portavoce regionale della Lega, da evitare. Marsilio, a suo avviso, ritiene tutta la sua squadra di consiglieri e assessori meritevoli di un nuovo giudizio da parte dell'elettorato. Qual è la posizione di Forza Italia, che pure ha ricevuto molti consensi proprio da consiglieri eletti in altri partiti? Mi faccio fare una piccola premessa, nel senso che io, per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, per quanto riguarda Forza Italia, noi siamo molto soddisfatti di questa legislatura, siamo entrati in tre, prendemmo allora nel 2019 il 9,3%, con molta difficoltà, perché in quel momento Forza Italia era un momento di particolare debolezza, siamo rimasti in due per un po' di tempo, eppure da due oggi siamo diventati otto, siamo il gruppo più numeroso in consiglio regionale, abbiamo avuto un grosso risultato a settembre dello scorso anno, alle politiche tra il Senato e la Camera, il 12,13%, che è il secondo miglior risultato a livello nazionale di Forza Italia, che già ci permette di guardare ad una elezione regionale che potrebbe, con i resti, portarci anche a cinque consiglieri, con i resti, ma l'ultimo sondaggio che noi abbiamo, abbastanza recente, ci dà abbondantemente oltre il 12%, quindi sicuramente arriveremo a cinque consiglieri. Io credo che le affermazioni fatte dal, non mi sembra peraltro dal segretario regionale della Rega, lasciano un po' il tempo che trovano, perché questi passaggi ci sono, sono passaggi all'interno del centro-destra, vorrei ricordare che prima delle elezioni del 2019 proprio la Lega si è avvantaggiata di tutti questi passaggi e gli ha permesso di arrivare a quel risultato importante che fu del 27% con dieci consiglieri, per cui credo che valga un tetto che tutti conosciamo, per cui noi abbiamo le porte aperte, chiaramente non accettiamo tutti, ci mancherebbe altro, ma chi proviene dal centro-destra, chi ha un curriculum di centro-destra, chi proviene dalla società civile e non ha alcun tipo di problemi, si rivede nell'ideologia, nei valori di Forza Italia, noi lo candideremo senza alcun timore, senza alcuna ridicenza da parte degli alleati, veti nelle case degli altri, noi non li abbiamo mai messi e mai li mettiamo e pretendiamo che non si mettano nelle nostre case. Le nostre liste le facciamo noi, lo ha detto ieri anche l'Udc. Le nostre liste le facciamo noi, perché siamo persone equilibrate, serie e credo che questa serietà sia il risultato, che prima ricordavo, da due consiglieri siamo arrivati a otto, vuol dire che il lavoro svolto da me e dal Presidente Sospiri in Consiglio regionale ha dimostrato le capacità, la preparazione, l'esperienza di due consiglieri, oramai con un certo numero di anni, che hanno anche altre esperienze, per quanto mi riguarda il Presidente della Provincia, Assessore al Comune di Chieta, ai tempi del famoso primo dissesto, quindi voglio dire, molti ci riconoscono questa grande esperienza, questa grande serietà e quindi vedono in Forza Italia, in questo gruppo consigliare, un polo di attrazione e quindi chiunque viene è benvenuto. Noi le liste le stiamo già facendo, le abbiamo quasi completate, sono liste veramente per vincere le elezioni, per far fare un grande risultato a Forza Italia e continuare. Insomma, quel buon governo che abbiamo avuto in questi, in questo momento, quattro anni e mezzo, ma noi pensiamo soprattutto in quest'ultimo scorcio dove porteremo due grandi altri risultati agli abruzzesi, nonostante i 30 mesi di pandemia, nonostante un anno e mezzo oramai di guerra e con tutte le conseguenze, credo che grandi, grandi risultati sono stati apportati. Poi è chiaro che tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, ci mancherebbe altro, ma noi credo che abbiamo lavorato bene, portando concretezza nella politica e soprattutto risultati importanti. Tutto sommato alle spalle ci sono stati ormai cinque anni di navigazione tranquilla dal punto di vista della compattezza della coalizione per Marsilio, al di là di quello che poi è il giudizio sui risultati che daranno gli elettori. Lei si spiega perché ci sono queste fibrillazioni proprio in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, e secondo lei queste fibrillazioni, in particolare da parte della Lega, porteranno ad una decisione clamorosa? Perché nella sostanza la Lega non ha ancora detto il nostro candidato di Marsilio. Guardi, allora, intanto le fibrillazioni, quelle passate, prima di questa, se la vogliamo individuare come fibrillazioni, non ci sono mai state. Io ricordo nella passata legislatura, diverse volte il governo di centro-sinistra d'Alfonso Paolucci fu battuto in Consiglio regionale, ricordo che per circa 20 mesi la giunta era monca, tre assessori non si presentavano in giunta, e lei questo lo sa benissimo, addirittura quei tre assessori, perché allora non c'era la famosa surroga che invece c'è, non si presentavano in Consiglio, poco, male, perché la maggioranza non riusciva a concretizzare i propri provvedimenti. Quindi credo che noi, non è mai successo che neanche su un ordine del giorno siamo andati sotto. In Consiglio regionale abbiamo sempre ottenuto i nostri prima 17 voti, oggi siamo a 19 voti, che è una maggioranza forte. La stessa cosa succede in giunta, non c'è nessun provvedimento dove ci sono assessori che votano contro, si astengono, quindi credo di poter dire a ragione venuta che questa è una maggioranza granitica. Le fibrillazioni, ripeto, non mi sembra che vengano dai vertici massimi della Lega. C'è un signore che ha un incarico che mette in evidenza questa problematica, poi rispetto ad un caso isolato. Quello di Campitelli, diciamo. No, ma noi non entriamo nei fatti degli altri, sono problemi della Lega. A me sembra che in più di occasione invece il segretario regionale d'Eramo e il capogruppo d'Incecco abbiano espresso apprezzamento rispetto al Presidente Marsiglio, alla squadra di governo e all'intera coalizione. Non mi sembra di aver mai sentito il contrario. Quindi, poi credo che oramai a livello nazionale la ripartizione sia già ben delineata, quindi l'Abruzzo conferma Marsiglio, Fratelli d'Italia conferma Marsiglio. Vorrei ricordare, anche così, lo dico anche se non è del mio partito, che il Presidente Marsiglio, come è successo per altri, per esempio per il Presidente Musumeci, mio grande amico, siamo stati Presidenti della provincia di Chiedi, lui della provincia di Messina, in quel periodo, lui ha fatto il Presidente della regione Sicilia, non si è voluto ricandidare, è andato a fare il Ministro. Credo che chi conosce la storia di Fratelli d'Italia, conosce Marsiglio, sai che se Marsiglio non si voleva ricandidare oggi farebbe il Ministro. Quindi invece ha voluto, e questo credo che gli abruzzesi lo debbano apprezzare, essere rimasto in Abruzzo perché la continuità istituzionale è la cosa più importante. Noi siamo, credo, saremo per la prima volta una maggioranza, quindi un esecutivo che scrive la programmazione futura, la scrive e la gestisce. Invece negli anni pregressi mai nessuno si è trovato a gestire la programmazione scritta da se stesso, dalla propria coalizione. D'Alfonso aveva quella scritta da noi, dalla vecchia maggioranza, quindi anche dal sottoscritto da chiudi. Noi quando entrammo ci troviamo quella di Del Turco e se andiamo indietro è funzionato sempre così. Noi invece stiamo scrivendo la programmazione 21-27 che poi è diventata a causa della pandemia, 23-27 e la andremo a gestire. Ma questa è una programmazione, a differenza delle altre, straordinaria, sia perché anche grazie all'autorevolezza che ha il Presidente Marsilio e credo lo stesso esecutivo che ha acquisito in questi cinque anni è riuscito a portare più fondi, quelli naturali, cioè quelli europei, i tre programmi europei, da 800 milioni siamo passati a oltre un miliardo, per i fondi nazionali, quindi il famoso masterplan, il famoso fondo sviluppo e coesione, siamo passati da 750 milioni a 1.250 milioni, ma poi mi permette di dire che noi abbiamo il PNRR, così come tutte le regioni, così come tutta l'Italia, che sta portando fondi straordinari, veramente in maniera esorbitante e quindi non possiamo sbagliare a questo vorrei aggiungere, ci sono delle programmazioni nazionali che abbiamo condiviso, penso una che è quella della velocizzazione della Pescara Roma, che sono altri miliardi e miliardi che vengono sul territorio. Noi abbiamo finalmente centrato l'obiettivo della ZES che mentre prima era distribuita su 1.704 ettari, adesso con questo governo nazionale di centrodestra diventerà ZES unica per tutto il sud e quindi compreso l'Abruzzo per tutto il territorio, abbiamo decine e decine di richieste di insediamento di aziende, perché l'Abruzzo a differenza del sud ha quel qualcosa in più che le aziende cercano, cioè le infrastrutture e soprattutto non ha altri tipi di problema come purtroppo hanno alcune regioni dove c'è una forte presenza di indrangheta, mafia, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo noi invece non abbiamo questi problemi, quindi le aziende ci guardano bene per le agevolazioni che verranno concesse. Bene, Febbo, lei ha fatto un po' la sintesi del lavoro svolto in questi cinque anni anche dal suo gruppo consigliare, aveva soltanto due minuti, io li utilizzerei per una risposta di tipo personale, perché insomma proprio facendo riferimento al discorso della stabilità ecco mi veniva in mente che è un momento di un po' di tensione in maggioranza che poi però è stato risolto, è stato proprio quello che l'ha riguardato quando lei ha fatto anche un passo indietro dalla giunta regionale. Io sono un uomo di partito, un uomo delle istituzioni, capisco i momenti per cui qualcuno pensava di farmi il dispetto mandandomi via dalla giunta, forse non conosce bene i meccaniche, sono stato tre anni e mezzo libero di agire e credo di aver portato tante risorse a Chieti, alla provincia di Chieti, alla regione di Chieti, e magari anche quei risultati che parlavo che da due siamo diventati otto. Ecco, ieri, cioè su Chieti proprio l'ultima domanda perché so quanto lei è nel cuore la sua città, nei retroscena politici si è sempre parlato di una sua candidatura a sindaco per il dopo Ferrara, ma lei si ricandida alle regionali? Assolutamente sì, mi ricandido con ambizioni importanti di riconfermo, anzi di migliorare i risultati. Dico che a chiunque amministratore piace fare il sindaco della propria città. a Chieti si voterà, come ben sa, molti pensano che si vota nel 2025 perché si è votato nel 2020, ma c'è il decreto del governo che ha ristabilizzato, ripristinato le date rispetto alla pandemia, quindi si voterà a maggio del 2026 e quindi c'è molto tempo, molti personaggi usciranno, molte situazioni, la politica soprattutto quella attuale cambia giornalmente, quindi vedremo, vedremo, ma sicuramente, ripeto, per me, ma penso per chiunque altro personaggio politico e istituzionale, fare il sindaco della propria città sicuramente è il ruolo più bello e più ambizioso. Intanto sarà in pista, alle prossime regionali. Grazie a Mauro Febbo, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto. Arrivederci. Grazie.